Siamo Radio Irlanda, ma certo che siamo in un programma radiofonico italiano in Irlanda. Siamo Radio Irlanda, ma certo che andiamo in onda ogni mercoledì alle 9 di sera. Siamo Radio Irlanda, ma certo che andiamo in onda da Darding South and Fair. Siamo Radio Irlanda, ma certo che la nostra mission è fare incontrare la cultura italiana e irlandese a Dublino. Siamo Radio Irlanda, ma certo che vi daremo modo di conoscere eventi, iniziative e tutte le news dell'isola. Siamo Radio Irlanda, ma certo che ci piace l'Irlanda, ma con un pizzico di Italia.